È un'occasione irripetibile. Abbiamo visto una regione che ha presentato una sommatoria di progetti. Alcune realtà identificate all'interno di questo percorso sono buone, altre no. A nostro avviso rappresentano progetti che ormai sono zavorre e che vanno definitivamente abbandonati. Il discorso è centrale perché in ballo è il ruolo delle giovani generazioni. È un momento straordinario per costruire uno scenario da quei prossimi 30 anni che non avremo più la possibilità di ripercorrere nell'immediato. Quindi questo momento è altamente strategico per mettere in piedi processi partecipati dal basso, quindi un piano nazionale di resilienza e di ripartenza che sia concertato con tutti gli stakeholder territoriali, che si metta in piedi realmente una progettualità che va verso la direzione di un'Europa verde, resiliente e inclusiva. E al tempo stesso mettiamo da parte definitivamente quei progetti che sono zavorre e rappresentano ormai un'economia vecchia. Siamo in una fase di transizione energetica, quindi non più fossili ma rinnovabili, una fase di transizione verde che ci porta verso un'economia green e verso uno sviluppo di nuovi obiettivi di lavoro. Chiaro che tutto questo non si realizza con la bacchetta magica, ci vuole un lavoro importante anche da parte delle direzioni regionali. In parte questo percorso è stato avviato, va perfezionato perché la spinta deve essere forte. Uno dei temi centrali di questa sfida, uno dei nostri pilastri che abbiamo individuato è per esempio quello dell'economia circolare. Mettere in campo processi in questa direzione significa ripensare la gestione di tutta una serie di modelli vecchi che ormai sono superiati.